Questa sera siamo con Ragazzoni e Calzone del Vigor per Conti e Lotigiani. Allora, parlateci un po' di questa partita. È stata una bella partita combattuta. Finita un secondo. E allora, dopo il primo gol iniziale, che cosa è successo? Noi ci siamo un po' innergositi, però poi siamo usciti a rientrare subito in partita concentrata. Abbiamo riuscito ad ottenere la partita. Purtroppo per un errore arbitrale, su punizione, abbiamo preso gol. Però, bel gol la punizione. Invece, la performance in questo torneo come procede? Come ritenete la vostra squadra? No, stiamo andando bene. Speriamo di arrivare i primi, anche perché siamo una bella squadra. Anche noi stiamo migliorando partita dopo partita. Va bene così. Che cosa dobbiamo aspettarci? Che arriviamo in finale. Dobbiamo aspettarci una squadra che vuole vincere questo torneo. E allora, grazie, bocca al lupo entrambi, ragazzi.